puntata scoppiettante quella dell'isola dei famosi la finalissima proprio tante le sorprese in studio e in africa sono usciti ad uno ad uno fuori dal gioco e sono rimasti in ballottaggio proprio nicolas vaporidis e luca d'affre e proprio ad uno ad uno sono usciti rispettivamente nick luciani maria laura davidis mercedes hanger poi il ballottaggio tra nicolas vaporidis e carmen di pietro che si posiziona in terza posizione ma alla fine proprio nell'ultimo televoto ha spuntato e nicolas vaporidis che vince l'ultima edizione quindi l'isola dei famosi mostrando una crescita dal punto di vista spirituale e umano sicuramente unica nicolas secondo il pubblico secondo anche gli opinionisti studio e secondo tutti quelli che hanno partecipato è il vero vincito dell'isola dei famosi questo quello che è successo nella serata finale e intanto anche alvin prima di spegnere tutte le luci sulla palata ha dato il suo ringraziamento ufficiale a hillary brasi e a tutta la macchina dell'isola dei famosi che ci sta dietro intanto se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su diteci cosa ne pensate di nicolas vaporidis diteci qual era il vostro preferito e seguiteci sempre su nova news 24